Con la posalvetti alla fine di un derby con 19 punti di distacco, forse un po' bugiardo coach, però dal 56 al 54 la partita è cambiata, Marotta e Rabaglietta hanno fatto canestre importanti, però in difesa avete cambiato anche a livello di impatto fisico la partita. Sì, sicuramente lo scarto non descrive l'andamento della partita perché Valdisieve è stata molto brava, ci hanno messo in difficoltà, a metà terzo quarto erano avanti, avevamo veramente difficoltà soprattutto a difendere, poi abbiamo trovato un assetto togliendo Puccioni, giocando con i nostri lunghi giovani e lì secondo me abbiamo costruito la vittoria perché siamo riusciti a fare difese e poi in contropiede siamo riusciti a distenderci, poi sicuramente Marotta è stato molto bravo, Rabaglietta è stato molto bravo, però sicuramente la nostra vittoria parte dalla metà campo difensiva. Senti, funziona bene anche Nardi insieme a Marotta, i due playmaker insieme, gestisce la squadra, gestisce la palla in maniera più ordinata, anche stasera si è avuto anche una nota positiva con Goretti. Sì, abbiamo fatto meno palle perse, Nardi più che altro è importante perché ci dà la possibilità in difesa di tenere tutti gli uno contro uno che nel primo tempo non tenevamo e poi niente, sono contento per Goretti, è un ragazzo giovane, è stato un po' sfortunato perché ha subito una frattura al setto nasale un mese fa, quindi è dovuto star fuori, ma noi lo vedevamo crescere in allenamento e quindi oggi il fatto che abbia fatto 13 punti sinceramente a noi non ci stupisce perché in allenamento è un ragazzo che si allena molto seriamente e quindi siamo contenti e proseguiamo così. 8 vittorie consecutive, giorni d'andata, finito con una sconfitta e basta, mi sembra il bilancio per ora siamo molto positivi. Noi non facciamo bilanci, nel senso che veramente questo non è il momento di autocelebrarsi, è il momento di buttare giù la testa, martedì giochiamo, Pontellera ha cambiato allenatori, ha preso due giocatori, questo veramente non è il momento per noi di alzarsi e guardare dove siamo, questo è il momento di continuare a macinare, abbiamo una partita martedì in casa che assolutamente dobbiamo prendere e poi sabato ci aspetta la trasferta di Lucca dove sicuramente avremo delle enormi difficoltà perché Lucca è forse la squadra che ci ha creato più difficoltà dal punto di vista tecnico e poi chiuderemo il Natale, prima di Natale con il derby con Legnaia, quindi assolutamente per noi non è il momento di guardare a che punto siamo, sappiamo che dobbiamo andare avanti su questa strada, siamo contenti che i giovani stiano rispondendo bene, però dobbiamo buttare giù la testa e continuare a pedalare.